La paura è quella di un ulteriore prolungamento della chiusura per le attività legate al mondo del fitness che dovrebbero riaprire il prossimo 15 gennaio. Sono molti però i dubbi e le domande che si pongono gli stessi titolari delle strutture che potrebbero vedersi nuovamente in balia di un probabile DPCM che non gli consentirà l'apertura per la data prestabilita. Questo aumenterebbe il disagio e la preoccupazione degli stessi titolari che dovranno trovare una mediazione con i clienti che vorranno giustamente recuperare i mesi persi. Per molti il danno economico che si prospetta potrebbe essere la definitiva chiusura dell'attività. Lo spero ma non sono molto fiduciosa in quanto i contagi credo che saliranno per colpa dei comportamenti natalizi e di capodanno. Ho sentito che Spadafora parlava di 15 gennaio o fine gennaio con ingressi contingentati e non corsi ma rapporto a uno a uno, comunque poche persone. Speriamo, speriamo perché abbiamo assolutamente voglia di ricominciare. Io per come sono fatto non voglio illudermi troppo, aspetto certezze e una volta che sarà ufficiale ci organizzeremo. Non voglio prima illudermi, quindi aspetto un attimo. I clienti iniziano a domandare, questo per fortuna mi fa piacere, vedo che c'è fermento, vedo che c'è il desiderio di ripartire e mi fa ben sperare. Non mi vedo fiducioso perché ci stanno intervenendo pareri sanitari. Quindi il Ministro della Salute che ha detto alla sua fino adesso non si era mai così esposto. Invece in questi ultimi articoli, l'ho visto e letto, si sta esponendo per una richiusura per evitare una terza ondata. Il Ministro dello Sport invece che dice che con la tutela necessaria si può riaprire. E' questa l'incertezza. Sette mesi fermi, nell'idea della gente sono sette mesi persi. Ho pagato, ho perso e non ritrovo più e logicamente dall'altra parte mi metto dalla parte del commerciante che dice ma io ho delle spese vive, non posso restituirti niente. Quindi devo ripartire a farti ripagare una quota piena perché io ho delle spese. A meno che non si trovano degli accordi. Grazie. Grazie. Grazie.